Venerdì e sabato prossimo vivremo uno speciale momento penitenziale, chiamato 24 ore per il Signore. Inizierà con la celebrazione nella Basilica di San Pietro, venerdì pomeriggio. Poi, nella serata e nella notte, alcune chieste del centro di Roma saranno aperte per la preghiera e le confessioni. Sarà, possiamo chiamarla sì, sarà la festa del perdono, che avrà luogo anche in molte diocesi e parocchie del mondo. Il perdono che ci dà il Signore si deve festeggiare, come ha fatto il padre della parabola del figlio prodigo, che quando il figlio è tornato a casa, ha fatto festa, dimenticandosi di tutti i suoi peccati. Sarà la festa del perdono.